Buongiorno, ecco qui una nuova intervista delle Iene con Don Giorgio. Ci spieghi Don Giorgio qual'è il suo programma pastorale per la sua parrocchia? E non è parrocchia qua, è questo è l'italiano in cui abitano in Bologna cinesi morti. Cinesi morti a Bologna? No, è cinese solo io. Tu sei cinese? Ah, sei Don Giorgio, sei Don Giorgio? No, sono Don Giorgio. Don Giorgio? No, Don Giorgio è per se faccio qua e non perdere questa lingua. Pensai che in questa nuova sera ora siamo e ciao e qui è e qui si parla per te e qui si parla per me e se ne ho e cos'è se mi mette. Ma in che lingua stai parlando? E io sto parlando in Cina. Ma in che lingua sta parlando Don Giorgio? In Cina! E quindi qui cosa stai parlando, stai parlando in Cina's timiot�� e il классo è un video sinistro. Iscrivi al großen, un traccion, un ricombi che serà io, mi ricordino libero su rise e? maria e la molla 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 e io parlo in cinese tu parli in cinese? scusa fai la mia maria in cinese ah gna gna e paro così e ho fatto così allora, io, e la mia caccia è bella e gli dico cavo e il caccio è e il caccio è e il caccio è allora allora Ora sì, io ascolto un gatto. Ah, ho la mia, oh cani mia, oh ma è bada, oh già sei lì, oh già è il cielo. Sai che questo musico si chiama Gesù Cristo Superstar? No, è questo poco, e ora esiste. Non esiste? No. E questo è in cinese, in arabo e in cavalese. In cavalese? No! E in cinese. In cinese, in arabo e in cavalese. Io abito in Cina. Ah, tu sei cinese? Tu sei biancaciò. No, sono Don Giorgio. Don Giorgio cinese? Da 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 da! Hai capito? Da da da... Aio! Don Giorgio è cascato? E Don Giorgio l'ha fatto male! E Giorgio l'ha... Ma qua c'è bisogno di un esorcista per Don Giorgio. Sai cos'è un esorcista? Vieni fuori dal tuo corpo! Vieni fuori dal tuo corpo! RHey, vieni fuori dal tuo corpo! E rè, che vieni fuori dal tuo corpo! Uh oh, secondo voi. C'è un esorcista per Don Giorgio? E genio di lo corpo! Errrr! E rè, che vieni fuori dal tuo corpo! E' un modo strano di pregare questo. Oh, questa la riconosco, è Suor Vittoria. Buongiorno, Suor Vittoria. Buongiorno, Suor Vittoria. E' uguale? E' uguale. E' uguale. E' uguale, sto mettendo la sciarpa. Eh, buongiorno, Suor Vittoria, come sta? No, sono Suor Vittoria. Mamma mia, puoi dirlo anche in maniera un po' più gentile. No, sono Suor Vittoria e sono Suor Vittoria. Sono Don Giorgio, capiamo Suor Vittoria. Scusate, ma chi ha smollato? No, è solo Don Giorgio. E' Don Giorgio che ha smollato? No, sono i suoi bimbi dall'altra parte del monte. E cosa hanno fatto? Hanno scorreggiato. Boh, non si dice Don Giorgio queste parole. Eh, io sono severo come un, come un, come un sasso. Cosa dice, è vero Don Giorgio? Sono da genere come un sasso. Ah, ho capito. Più di un orco. Più di un orco. Basta. Più di un orco.